E' in arrivo nella busta paga degli italiani e non solo il bonus di 150 euro, che sarà riservato a chi percepisce reddito inferiore a 20.000 euro l'ordi annui. Rientrano nella categoria dei beneficiari anche i pensionati e chi prende il reddito di cittadinanza. Nel dettaglio il bonus sarà riconosciuto tramite datore di lavoro nella retribuzione del mese di novembre 2022 con una tantum di 150 euro. Potranno beneficiarne i pensionati, lavoratori domestici, chi percepisce identità di disoccupazione agricola, lavoratori di sport e salute, lavoratori stagionari a tempo determinato e indeterminato, lavoratori dello spettacolo sempre con reddito però inferiore entro i 20.000 euro. Infine il bonus sarà ricevuto anche ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza. Grazie per la visione!